ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video del giovedì oggi sono una prospettiva un diversa ma perché questa settimana anzi questo fine settimana andiamo a dare un tocco un po' nerd al mio canale io sono un patito degli eroi Marvel ma soprattutto come potete vedere dal titolo di Iron Man e un'altra mia grande passione sono il ego quindi in questo video metteremo insieme queste due passioni le consolideremo andando a montare questo piccolo cofanetto lego e vi farò vedere tutte le trasformazioni di Iron Man nel film fino al fatidico schiocco finale Grazie a tutti 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 Grazie a tutti